Mi sembra che sia stata definita every time. Every time come definizione, non me ne voglia meno chi l'ha scritto, ma mi sembra più un articolo, un capo d'abbigliamento femminile, anziché riferito a una nave. Io la definirei purtroppo un all-weather nel caso. Per quanto riguarda le mie conoscenze, le navi e questa tipologia di navi possono avere delle ottime caratteristiche, per dire evolutive, quando si entra in porto e magari non sono così ottimali per quanto riguarda la navigazione, o viceversa. Togliere un collegamento, come è già successo ultimamente, addirittura di 24 ore, mi sembra, è stato dovuto al fatto che le condizioni meteo erano provvitive. Credo che i miei colleghi, prendendo quella scelta e questa decisione, avranno scelto senz'altro il meglio. Il comandante non è che è condizionato dal proprio egoismo, ma è condizionato da quelle che sono delle scelte che sono per lui prioritarie. Innanzitutto la sicurezza dei propri passeggeri, la sicurezza del proprio equipaggio, in ultimo la sicurezza della propria nave. La bacchetta magica non ce l'ha nessuno, ecco. Questo va detto. È difficile pensare dall'oggi al domani a risolvere questo problema. Sempre che ci si possa arrivare a una risoluzione tale, secondo me è un margine all'interno del quale i collegamenti comunque possono essere sospesi, c'è sempre. Il problema non è tanto, o perlomeno non è solo la navigazione, la quasi totalità dei problemi succede nella fase di ormeggio e disormeggio. Capisco enormemente, anche perché mi ci sono trovato alcune volte, alla difficoltà di tutti gli elbani che non riescono a rientrare sull'isola o non riescono ad andare al lavoro. Tuttavia questi disagi vanno contemplati con un dato che non è comprovabile. Ovvero, se il comandante di una determinata unità avesse preso il mare e poi al momento dell'ormeggio fosse successo qualcosa determinando dei problemi ai passeggeri, Quindi, come ne parleremo adesso? Il comandante deve valutare. La traversata, prima di tutto, deve valutare la manovra. Perché la manovra, cioè, la nave può essere presa dal vento, sbattere in banchina, creare dei danni alla nave, creare dei danni alle strutture, creare dei danni ai passeggeri. E poi il problema più importante che abbiamo qui nella tratta di Piombino-Portoferraio è il porto di Piombino che soffre di una risacca spaventosa. Anch'io sono rimasto bloccato a Piombino, dunque l'ho vissuta personalmente. Ho visto che il comandante del Marmoric ha provato due o tre volte ad abbassare il portellone, ma il portellone faceva un metro e mezzo, due metri di oscillazione, di risacca, col pericolo che quando la macchina si trova a imbarcare o praticamente la catapulta può finire in mare, può rimanere della gente schiacciata sotto il portellone.